Cristo santo, ma che cazzo fa? Paul! Ma che fai? Questa roba va cotta di fuori. Paul! Sta certo che scotta, così ti bruci. Guarda che stai facendo cadere le unghie. Un bambino di tre anni! Ti dico di bruciare la neve! Non ti vedi a farlo in mezzo alla strada! Non pensavo ti saresti arrabbiato. Si era riempito di fumo l'inghia, Danny. Sei impazzito! All'alcolisti anonimi ti insegnano ad analizzare i tuoi sentimenti, a guardare sotto il letto per vedere che non c'è nessun mostro. Ma il problema è che a volte il mostro c'è. E a volte... devi scappare e basta. Paul! Ma dov'è finito? Scusate, non posso, forse Dio ci perdonerà. Non ho alcun senso di responsabilità! Allora, signori, prestate attenzione. Ecco le aree da setacciare. Ed ecco i vostri obiettivi. Noi arresteremo questi farabutti simultaneamente. Dobbiamo rimediare ai nostri errori. Ecco qua. Ci sono domande? Bene. Mi sento bene. Ma devo pompare un po'. Dobbiamo gettare la Lamborghini nella palude. Buon culo! Marta! Vedate qua! Avete visto questi, eh? Scolpiti nella pietra! Adrian! Ci sono delle persone che ti cercano! No! 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 Senza rancore. No! Chiamate il Daniel! Chiamate il Daniel! Chiamate il Daniel! Crap! Accidenti! Polizia! Fermo! Juste faccio! Ehi amico, tutto bene? Wow, non l'avremo.